Consiglio da amico. Sono sempre stato un tipo che dava numerosi consigli a chiunque e mi dà particolarmente fastidio quando uno di loro non vive la propria vita al massimo. Per questo faccio in modo che tutti i miei consigli siano sempre ottimi e si rivelino utili. La notte scorsa una mia carissima amica mi ha chiamato dicendomi con un tono molto preoccupato che sua ex continuava a seguirla ovunque. Ovviamente l'avevo avvertita più di una volta sul suo conto ma non mi ha mai dato ascolto. Così quella sera le diedi l'ultimo consiglio che le potessi dare. Ignoralo. Vedrai che tra qualche giorno si sistemerà tutto. Questa mattina ho ricevuto una sua chiamata. Mi ringraziava per l'ottimo consiglio e per la disponibilità. Mi disse che era da parecchio che non la perseguitava più e che era molto più tranquilla adesso. Alla fine tutto era andato come l'avevo detto. Adesso che me ne faccio del cadavere in cantina? Alla fine. Alla fine.